Chi ha la fortuna di andare in vacanze in questi giorni deve inevitabilmente fare i conti con il traffico e di quello peggiore. Con questo weekend il secondo di grande esodo estivo scatta infatti ufficialmente anche il periodo di maggior traffico e ha più elevato rischio di code, se non peggio. Dunque meglio partire almeno preparate al peggio visto che è oramai anche difficile organizzare una di quelle che un tempo si chiamavano partenze intelligenti. Per dire viabilità Italia prevede pollino nero nella mattinata di domani sabato 5 agosto e rosso traffico intenso con possibili criticità nel pomeriggio di domani e per l'intera giornata di domenica 6. In Veneto in particolare sono interessate maggiormente dai flussi di traffico estivo la strada statale 16 adriatica che raggiunge i colli euganei e le zone termali, la 309 Romea che dal parco del delta del Po arriva alla laguna Veneta, la 14 della Venezia Giulia che raggiunge diverse località marittime come Iesoro, Eraclea e Ceggia, interessate anche la 51 Alemagna e la 52 Carnica che consentono di raggiungere le Dolomiti Bellunesi, il parco naturale delle Tre Cime, le Alpi Carniche e i valichi di confine con l'Austria. Unica consolazione, se così si può dire, il divieto di transito ai mezzi pesanti. Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo viabilità sono disponibili ai link www.stradianas.it e attraverso i canali social Facebook di Strade Anas e Twitter di Strade Anas, Vai Strade Anas e Clienti Anas seguendo l'hashtag esodo estivo 2023. Non solo strade però perché è partita contestualmente anche quest'anno la campagna di sicurezza rivolta a segnalare le emergenze in mare condivisa da Anas attraverso i pannelli elettronici a messaggio variabile presenti sulle reti stradali italiane e sui canali social istituzionali dell'azienda. Il claim che verrà diffuso è per emergenze in mare chiama la guardia costiera. Anas, società del polo infrastrutture del gruppo FS italiano, ricorda anche le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale, quando guidi, guida e basta, per il rischio incendi la strada non è un posacenere e infine contro l'abbandono degli animali sulle strade, hashtag amami e basta.